parlando sono due dio ci dirò un bello grappolo rampare a io gli sto andando addosso io almeno uno si è un padre ma guarda come sparano guarda che folli c'è un team fuori e un team dentro l'ho visto sono dentro sono dentro c'è altre gente ce n'avete no io non ce n'avete però è un troppo occhio a uno gli ho sboccato le piastre e magnetalo ok ho iniziato a tirare stordenti qua dentro e granate ve l'ho detto andiamo guardate che c'era quali era il dio dei soldi ma non è serena che vicenda e nessuno che ha raccolto niente perché siamo arrivati noi perché come si dice tra i due litiganti quando ora da leone alla i gatti al dame del popolo proprio i piccoli i piccoli il non deve arrivare in un'ora il suo bello la propria 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 ma questi livelli and invece possiamo provare su questi ma non vedo niente lì ma capiamo quali ho preso l'ordine io prendo pure luoghi mi chieda di consiglio un bombardamento pure te dopo il team di aiutare fantasma io c'ero il fantasma non c'è io manco noi ci vorremmo noi qua vorremmo qua 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 ok sono sotto ma siete senza cazzo la cazza cazzo la cazza cazzo la cazza ma che stiamo sperando con quei proiettili viola no si ok scuola minacela e viola c'è un uomo facevano a b c'è un uomo se l'ho preso l'ho preso io comunque io ho due ne ho fatti ma c'era il terzo pure si l'ho fatto io ok non mi so terrico mi coprite un secondo si arriva non ci credo il re non era solo buono è ucciso il re però l'altro non c'era curatemi cosa non aveva dei soldi comunque stanno è rimasto uno solo vivo nella scuola di ricorda soldi ricorda vieni 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 copritemi copritemi aspetta comunque nel dentro la centrale dei pompieri sentiamo nel posto uno solo quella l'equipaggio l'avete visto che c'era uno all'equipaggio te l'ho ammazzato ok si lo vedo è tignoso abbiamo a me lo vaga mi sono cercato di fondi mi sono sparato nella vostra casa ma come la nostra casa no è impossibile si intorgirà da qua da qua a un esinimo sopra no da là da là sono morto sono morto che arrivo vami soldi vami soldi no è giovanni è giovanni che ti devi dare vieni qua adesso ma porco di te siamo due vediamo sto riscando la vita lo so aiutatemi aiutatemi guardiamo lei gli balli non sono entrate entrate dentro è se mi sei subito dentro è lo cindicSoft si è fatto io non ho un cazzo 60 munizioni ce n'è uno a 30 metri va dai nuovo mi hanno fatto che non ci credo sono un pollo ragazzi scusatemi cioè non è non è possibile ma allora sono handicappato proprio ammazzato la prima volta che sono riandato noi siamo del passiamo a morti quindi andiamo a terra ma sono di un attimo per noi ci siamo morti sono usciti da questa casa entrate nell'altra accanto rimanientato di ma nientato opposto è morto non ce n'è più dovete andare nella sua casa ragazzi in questo era io vado io a casa quando non ci credo siete dei miti veramente grandi grande ma nientate grandi ma che trovo che siete avete mine no ho un modo dopo me lo faccio la sacca di piazza preso preso ho chiaro mi insiccono dei tibioti a minchiavo di chiudere nino c'è melo c'è melo melo chiusa la volta chiusa la volta melo no 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 ecco sempre quello sul tetto azzerrato sul tetto avete bombardamenti no stanno salendo almeno sul tetto c'è c'è chi uno è qua 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 ecco qua aperta confermato vai sei persone restano come avevo questo fatto la diretta ma non cerchiamo nel libro infatti tutti vini salvi la clip video piuttosto qua figliari sta uscendo di qua l'uomo ok ecco mi vedo a posto abbiamo vinto mamma mia mamma i grandi ragazzi voi che mi avete curato 18 volte dai vaffanculo per me ottima conclusione mamma mia ottima ottima conclusione questo è una meraviglia è bello vince il fatto è schifo il tempo è tutto ma sono tutti ragazzi le dili quanti sono ora vediamo non abbandonare ma io ne avrò due insieme sto facendo la diretta ora no 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 fai toccanto share una volta nick mi senti tocchiamo ok no se vuoi salvare non 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 non